Cosa è questo doraggio? Vedi, Hawk, abbiamo avuto delle divergenze in passato, ma non ho mai voluto farti del male. Non credo tu capisca quanto mi interessi. Ti amo, Sergente Hawk. Ecco, voglio solo sentirti dire che anche tu mi ami. Dov'è Vicky? Ah, ne ho abbastanza. Vedi se riesci a fargli cambiare idea. Ehi, ehi, ma che cosa... Ehi, ma tu mi metterai quello? Guarda, fai uscire dalla gabbia e ti farò vedere cosa so fare con quel pastoncino. Cosa ci troverai lei? Di sicuro non è bella come me. Cosa? Non è possibile. Ragè! Come ha fatto Vicky a scappare dal mondo dei dinosauri? E dove ha trovato quel leone? Un leone di arricina? Sì, un leone. Ti avevo raccomandato di farla sparire e ora è scappata. Robinerà tutto. Sono stato proprio io, mia regina, a negoziare i termini con i marziani come volerete. Ora, stupido! Voi al castello e assicurati che non creino altri problemi. Li devi catturare. Hai capito? Sì, mia regina. Bene. Mi occuperò io stessa dei marziani. Devo entrare nel castello. Un asso di cuori? Leo, tu resta qui e ti vado ad aprire la porta. Qui devo essere un po' meschina e far fuori le guardie un'altra volta. Mh, barelli di polvere da sparo. Una qualche scintilla potrebbe farli fuori. Mh, barelli di polvere da sparo. Oh no, sono stata scoperta. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.